Crisi del lavoro. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che dichiara lo stato di emergenza occupazionale e salariale e chiede al governo il rifinanziamento in deroga alla CIGS e il finanziamento di 150 milioni di euro per le aree colpite da crisi industriali in Piemonte. Il documento è stato presentato dai capigruppo di maggioranza e di opposizione, dal presidente del Consiglio Stefano Allasia e dal presidente della Giunta Alberto Cirio. Abbiamo portato d'accordo con tutte le forze politiche, il dibattito in Consiglio regionale. Si deve prendere atto di una situazione che formalmente si chiama crisi occupazionale del nostro Piemonte perché è il presupposto per ottenere più fondi da Roma. All'intervento dell'assessore Elena Chiorino che ha evidenziato un quadro critico in particolare per l'industria manifatturiera che perde 25 mila addetti sono seguiti gli interventi dei consiglieri di maggioranza e opposizione. In Piemonte purtroppo i nostri imprenditori in questi anni si sono sentiti dire troppi no. Noi come nuovo Consiglio regionale faremo delle leggi per dire tanti sì ai nostri imprenditori. Proponiamo di dichiarare formalmente Torino zona logistica semplificata che consentirà di innescare delle agevolazioni fiscali che costituiranno il miglior incentivo per l'imprenditoria a tornare a investire e rilanciare sulla produzione e sul lavoro qui in Piemonte. Noi crediamo che per affrontare una crisi così importante anche in un contesto globale così difficile si debbano fare politiche integrate tra sviluppo economico, politica industriale, lavoro e protezione sociale delle persone. Con il Movimento 5 Stelle abbiamo depositato una proposta di legge per evitare le localizzazioni e mantenere le nostre imprese sul territorio piemontese dove possono produrre ricchezza e occupazione. Sono intervenuti in aula anche i rappresentanti sindacali. Per Giovanni Esposito, CGL, il Piemonte è sceso al quarto posto nel manifatturiero, ma anche una visione europea e nazionale si compete fra regioni senza puntare alla qualità dei prodotti. Per Alessio Ferraris, segretario generale CISL, la mancanza di piani industriali e di condizioni per favorire le imprese è un problema nazionale, ma in Piemonte si aggiunge la difficoltà a lavorare di squadra. Gianni Cortese, segretario generale Will, ha ricordato che in Piemonte la disoccupazione è aumentata del 60% in 12 anni e che molte aziende dell'automotive sarebbero già chiuse senza gli accordi del 2011. Per Armando Murella, segretario generale UGL, molti settori sono sottopagati, non si può andare avanti con i contratti di solidarietà, serve creare vero lavoro.